Abbiamo comprato la vignetta e adesso andiamo in Austria. Grazie a tutti. Prima serata finita, dagli stanchi, torniamo in hotel a dormire e domani lezione. Musica C'hanno appena cacciato via dalla sala. Andati via di cattiveria proprio. Cattivissimamente. Super cattiveria. Non solo noi, tutti quanti, per il ciò. Siamo finiti a fare lezione dentro un posto che odio già tantissimo. Posto perfetto per serena, per essere rilassata, amorevole e carina. E' vegana soprattutto. Il Museo della Caccia e della Pesca. Il Museo della Caccia e della Pesca. Stamattina è stato particolarmente impegnativo alzarsi e oggi abbiamo altre quattro ore di lezione, più pesanti di quelle di ieri. e stasera la serata con l'after party. Tragica. E' un po' no. Molto. Acepto. 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 Trovare il tavolo si sta dimostrando molto più difficile da imprevistare. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.